Il modulo Polisweb consente di consultare gli aggiornamenti disponibili nei registri di cancelleria e di salvarli nella pratica di CLEOS. Le informazioni scaricabili riguardano le udienze e le scadenze, lo storico di cancelleria e i documenti, il profilo del fascicolo. La funzione Cerca in Polisweb presente nella sezione Polisweb del modulo del processo telematico avviene unicamente mediante autenticazione tramite certificato e inserimento del PIN e consente di visualizzare le informazioni relative ai procedimenti scritti a nome dell'avvocato. Per tale ricerca è necessario disporre di Digital Key o Smart Card. È obbligatorio selezionare l'ufficio giudiziario nel quale ricercare e per quali registri. Sulla sinistra sono presenti diverse tipologie di ricerca. Eventi storico ricerca solo gli eventi di storico di un determinato periodo. Scadenze e udienze permette di cercare solo le scadenze e udienze in un periodo. Fascicoli personali permette di ricercare uno o più fascicoli in particolare tra quelli per cui si ha visibilità. Archivio fascicoli permette la consultazione in forma anonima dei fascicoli telematici di tutti gli uffici giudiziari italiani. Archivio giurisprudenza permette la ricerca pubblica di sentenze. Per ritrovare invece precedenti ricerche salvate nel gestionale, utilizzare il comando Cerca nei risultati. Si ricorda che si tratta però di dati non aggiornati. Una volta eseguita la ricerca, il pulsante Importa o collega in corrispondenza del fascicolo interessato consente di creare ex novo una pratica in CLEOS recuperando i nomi delle parti e tutti i dettagli del procedimento o aggiornare automaticamente una pratica già esistente in CLEOS. CLEOS è in grado di individuare la pratica precedentemente salvata se e soltanto se sono presenti i seguenti dati identificativi, numero di ruolo, ufficio giudiziario, registro ed eventuale subprocedimento. Se mancasse uno dei dati sopresposti, CLEOS potrebbe comunque individuare il fascicolo già salvato, proponendolo all'utente per l'aggiornamento. Tali operazioni possono essere effettuate anche in maniera massiva e in background, consentendo nel frattempo all'utente di continuare a lavorare in CLEOS. La funzione Aggiorna, disponibile anche all'interno della singola pratica, consente l'aggiornamento da polisweb delle informazioni selezionate. Aprendo il fascicolo dall'apposito comando evidenziato Apri pratica di CLEOS, si visualizzano nel relativo tab nella pratica le informazioni scaricate dalla cancelleria telematica e salvate nella pratica. CLEOS mostrerà la data dell'ultimo aggiornamento effettuato e sarà possibile consultare i dati salvati in qualsiasi momento. Dal modulo Polisweb nella sezione Eventi storico e nel tab della pratica relativa al Polisweb è possibile utilizzare la funzione di consultazione dei documenti pubblicati. Il comando Visualizza documenti consente la lettura del contenuto, mentre in porta documento il salvataggio in CLEOS. Il file sarà così disponibile nella sezione documentale per successive consultazioni. Si sottolinea che anche se i dati sono stati precedentemente salvati nel fascicolo, per la consultazione dei soli documenti è necessario procedere con l'autenticazione, a meno che questi siano già stati salvati tra i file della pratica. È possibile monitorare lo stato di tutti i depositi e notifiche telematiche creati in CLEOS utilizzando le due sezioni specifiche nel modulo Polisweb. Per avere successo, un deposito telematico dovrebbe passare attraverso quattro stati consecutivi. L'aggiornamento sugli stati del deposito viene eseguito mediante la verifica dell'account PEC utilizzato per l'invio e la lettura di tutte le notifiche ricevute dal Tribunale. È importante sottolineare che il sistema non rileverà gli esiti nel caso in cui le email vengano eliminate dal server. Nel modulo processo telematico sono presenti due diverse sezioni, deposito telematico e notifiche telematiche. Il sistema mostra gli stati dei depositi e delle notifiche per le sole pratiche in cui l'utente è autorizzato ad accedere. L'utente può selezionare l'avvocato che ha inviato il deposito utilizzando le due informazioni indirizzo email PEC e mittente PEC. L'intervallo di tempo tra due aggiornamenti automatici consecutivi è di 30 minuti. Se l'utente avesse bisogno di un aggiornamento prima dei 30 minuti, può avvalersi del pulsante Ricarica. Lo stato dei depositi viene aggiornato accedendo all'account email PEC. Se l'utente non avesse l'email di account PEC configurata in mie preferenze, documenti ed email, account email PEC, non si attiva l'aggiornamento degli esiti e l'utente viene informato con un messaggio. Nella medesima sezione, l'utente può creare un nuovo deposito o una nuova notifica telematica nella relativa scheda. Può avvalersi dei filtri nella colonna a sinistra per individuare le diverse tipologie di esito, accettazione, consegna, controlli automatici e controlli cancelleria, o dei filtri in alto per cercare il deposito o la notifica per fascicolo e per data. L'utente può anche visualizzare i dettagli di ciascun esito ricevuto per il singolo deposito. Per gli esiti non ancora pervenuti, il relativo stato è disattivato. Cleos scarica automaticamente tutti gli esiti PEC relativi al deposito o alla notifica inviati per la singola pratica. L'utente può visualizzare l'esito selezionato utilizzando il pulsante Visualizza. La presenza delle icone consente all'utente di comprendere immediatamente l'esito ricevuto e se ci sono stati rifiuti. Un flag verde significa che è stato ricevuto esito PEC positivo. Una X rossa significa che è stato ricevuto esito PEC negativo. Nessuna icona significa che l'esito PEC non è stato ricevuto. Cleos salva automaticamente tutti gli esiti organizzandoli nelle cartelle virtuali, i miei depositi o le mie notifiche della pratica da cui è stato fatto l'invio. Grazie a tutti.